Buonasera e benvenuti da parte di tutta la redazione di Imperia TV. È stato il dibattito sul futuro della ex Agnesi e dell'area ex Ferriere a caratterizzare il dibattito di ieri sera in Consiglio Comunale a Imperia. L'argomento è stato portato in discussione dagli esponenti di opposizione, i particolari in un servizio. È stata la vicenda Agnesi e il futuro delle aree dell'ex pastificio e dell'ex Ferriere a tenere banco ieri sera in Consiglio Comunale su iniziativa dei consiglieri di opposizione che avrebbero voluto in realtà una seduta monotematica sul delicato tema. Alessandro Savioli ha ripercorso la storia del progetto ex Ferriere presentato da Colussi con la promessa, poi evidentemente non mantenuta, di sviluppare lo stabilimento Agnesi fino ad arrivare alla recente proposta di un nuovo progetto per l'ex Ferriere. Per Savioli è necessario analizzare con calma e attenzione il progetto nel rispetto degli ex lavoratori Agnesi e anche per non arrecare danni alle realtà commerciali esistenti e già in difficoltà. Il vice sindaco Giuseppe Fossati ha invitato i consiglieri a tenere distinti il futuro dell'ex stabilimento Agnesi e lo sviluppo dell'area ex Ferriere, evidenziando anche che ormai non ha più senso parlare di un presidio industriale in quella zona e che di contro non si può lasciare tutto in abbandono. Fossati nella ex Agnesi vedrebbe un centro benessere, un albergo, studi professionali e un museo della pasta. Per l'ex Ferriere invece il vice sindaco imperiese ha evidenziato che il progetto in esame prevede attività commerciali, attività di ristorazione e un polo tecnologico. Ancora dall'opposizione Luca Lanteri per l'ex Ferriere ha parlato di un progetto nuovo che si riduce a due scatoloni di cemento sul fronte mare, distruggendo così l'unico spazio libero che rimane tra Oneglia e Porto. In poche parole una speculazione edilizia che non c'entra nulla con la creazione di posti di lavoro. Di colate di cemento parla anche Maria Nella Ponte che invita a creare delle scuole all'interno della ex Agnesi e spiagge nella zona ex Ferriere. Guido Abbo ritiene invece che il nuovo progetto ex Ferriere potrà al massimo spostare qualche posto di lavoro ma non crearne di nuovi e invita a rendere vivibile il vicino parco urbano. Per Gianfranco Gaggero il comune si appresta a svendere l'unica area a fronte mare ancora libera. Gaggero critica inoltre le previsioni di centri commerciali che a suo dire ucciderebbero il piccolo commercio cittadino. Anche per Antonello Oranise all'ex Ferriere ci può stare il polo tecnologico ma non in supermercati. Sulla stessa scia ha anche Davide Lamonica. Fabrizio Risso chiede maggiore riflessione sul progetto ex Ferriere e per l'Agnesi invita a pensare alla cantieristica. In sala seguire il dibattito consigliare anche ex lavoratori agnesi esponenti della sinistra, fra cui Sinistra in Comune e Sinistra Italiana che in una nota accusa Claudio Scaiola di aver costruito a partire dagli anni 90 un progetto di città che si è rivelato fallimentare. Per gli esponenti della sinistra gli annunci di posti di lavoro per il progetto ex Ferriere ricordano tristemente quelli fatti a suo tempo per il porto turistico con il filo conduttore di una città piegata agli interessi di poco affidabili imprenditori rapaci. Sinistra in Comune invita tutte le forze politiche a sostenere un progetto alternativo che riporti a Imperia la produzione di pasta di qualità da integrare con il sistema portuale e il turismo. Il sindaco Claudio Scaiola nella sua replica in sostanza ha evidenziato la necessità di non far scappare coloro che intendono investire in città e di prendere contatti con tutti come si sta facendo per l'ex Agnesi e l'ex Ferriere. Il primo cittadino ha poi annunciato contatti per poter spostare la dogana all'ex Italcementi e sfruttare l'area sul mare. Sulla Agnesi Scaiola ha puntato il dito su chi in passato si è incuneato nelle divisioni familiari della proprietà originaria e non ha pianificato il futuro. Per Scaiola infatti ormai lo stabilimento di Via Schiva è uscito dal mercato e vanno cercate soluzioni realistiche. E' per questo il sindaco evidenziato che incontrerà Colussi nella prima metà di febbraio per capire le sue idee. Claudio Scaiola ha infine anche annunciato di voler fare un incontro con gli ex dipendenti Agnesi all'insegna della chiarezza. Il Ministero delle Infrastrutture ha destinato un contributo di 360 mila euro alla Liguria per il potenziamento delle piste ciclabili. I fondi saranno divisi fra i comuni di Genova, Sanremo e Ventimiglia. I particolari in un servizio. Sono state assegnate le risorse del bando varato dalla regione per un totale di 360 mila euro per il miglioramento e il potenziamento della sicurezza delle piste ciclabili. Ad aggiudicarsi i finanziamenti istanziati dal Ministero delle Infrastrutture sono stati i comuni di Genova, Sanremo e Ventimiglia. A Genova l'intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile in corso Italia per un importo totale di 654 mila euro. A Sanremo l'intervento prevede invece la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione della pista ciclabile finalizzati alla messa in sicurezza del percorso. La fine dei lavori è prevista entro novembre 2019 e l'importo totale ammonta oltre 200 mila euro. Nel comune di Ventimiglia infine l'intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile nel tratto fra via Tacito e la traversa di Porta Trento Trieste. La data di fine lavori è prevista entro l'agosto di quest'anno e la spesa complessiva è di 200 mila euro. A Sanremo si candiderà a sindaco anche Paola Rigoni, attuale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. La Rigoni ai nostri microfoni ha annunciato alcune parti fondamentali del suo programma. Vediamo. Paola Rigoni, già consigliere comunale di Sanremo per il Movimento 5 Stelle, ma adesso un passo avanti. In più la candidatura a sindaco della città di Sanremo e l'obiettivo qual è? I cittadini al centro? Assolutamente, mettere i cittadini al centro perché noi ci chiamiamo i portavoce, quindi portiamo la voce all'interno delle istituzioni e quindi a maggior ragione se andremo ad amministrare. Ci sono molti le tematiche che vogliamo portare avanti, sicuramente quella della salvaguardia dell'ambiente, della salute, ma anche per quanto riguarda la raccolta differenziata. La raccolta differenziata, porta a porta, che non va bene come va attualmente, perché assolutamente bisogna incentivare il cittadino e questo lo si deve fare attraverso la tarifazione puntuale, per cui il cittadino paga solo per quello che non differenzia. Poi c'è la parte riguardante la sicurezza, che la sicurezza ovviamente deve essere una coesione tra le varie forze politiche, tra la prefettura, ma soprattutto la salvaguardia del territorio e anche evitare il degrado. Abbiamo portato diversi esempi, tra cui quello della pigna, che deve essere assolutamente rivalutata, ma con un progetto ben preciso, come noi abbiamo spiegato nel nostro programma, che è l'albergo diffuso. Poi sicuramente le piazze. Noi vediamo le piazze che devono essere un centro di aggregazione molto importante. Noi abbiamo diverse idee, ad esempio, per Piazza Colombo, ma queste noi porteremo delle idee, ma queste idee devono essere, come si diceva prima, condivise con la cittadinanza, perché la città è di tutti, non solo di alcune lobby o idee di sindaci. La città deve essere di tutti, quindi grandi opere, non è che noi siamo contrari, ma sicuramente devono decidere la cittadinanza. Ecco perché per noi, ad esempio, è importante il bilancio partecipativo. Una parte del bilancio deve essere messa a disposizione della cittadinanza, che deve scegliere esattamente come utilizzarlo. Questo, sempre al centro, la nostra comunità. Quindi questa è la nostra parte principale. Poi abbiamo talmente tante idee e progetti. Noi abbiamo presentato nel 2014 questo programma elettorale. L'abbiamo sempre seguito, perché siamo coerenti. Presenteremo, non lo stesso progetto ci mancherebbe, ma un progetto implementato con i cinque anni che abbiamo fatto in amministrazione e con tutte le nuove idee e proposte che abbiamo. E sarà messo in rete, così tutti potranno verificarlo e valutarlo. In merito all'accordo quadro sullo sviluppo siglato ieri pomeriggio in Comune a Sanremo, fra amministrazione, sindacati e associazioni di categoria, si registra la soddisfazione dei sindacati. Per il segretario provinciale della CGL, Fulvio Fellegara, si tratta dell'inizio di una serie di iniziativi simili. Vediamo. Accordo quadro la soddisfazione delle sigle sindacali di CGL, Cisle, UIL, della sigla sul documento al fine di rilanciare l'economia e produttività cittadine. Molto importante, siamo soddisfatti, perché siamo partiti più di due anni fa con la nostra piattaforma provinciale. abbiamo provato a fare delle proposte, abbiamo fatto un'analisi del territorio, abbiamo provato a mettere sul piatto un'idea di sviluppo complessivo del nostro territorio, un'idea di territorio da qui ai prossimi vent'anni. Per realizzarla siamo partiti da un confronto con le controparti e con i singoli comuni. Sanremo ha risposto, si è resa disponibile a questo percorso e oggi abbiamo posto una firma che ci proietta sul futuro, perché pone le basi per un lavoro che dovrà continuare. Noi vogliamo avere un metodo di lavoro di confronto, avere la possibilità su ogni singolo tema che riguardi lo sviluppo e il lavoro di poter partecipare, di poter verificare, di poter lavorare per lo sviluppo di questo territorio, creando occasioni di lavoro, occasioni di sviluppo, avendo attenzione alle imprese locali e ai lavoratori locali. È un territorio che ha difficoltà nell'occupazione, i dati dell'occupazione sono sempre molto tristi, vediamo sempre imperia in fondo alle statistiche regionali, la disoccupazione invece è elevata, troviamo un grosso abbandono scolastico, abbiamo una povertà diffusa anche dal punto di vista sociale, nei nostri anziani e quant'altro, per cui non si può né restare indifferenti, né non si può procrastinare il fatto di prendere in mano queste problematiche e lavorare per portare delle soluzioni. Siamo partiti dalle infrastrutture, siamo partiti da come si può arrivare a raggiungere, promuovere il territorio, non ci fermeremo su questi temi, proveremo a fare un lavoro di squadra con tutte le altre associazioni per cercare, negli interlocutori come Regione, come Ministero, dei finanziamenti per il territorio per fare in modo che alle idee poi segua la concretezza dei fatti e ci siano le gambe per andare avanti tutti insieme. In merito alla firma dell'accordo quadro sullo sviluppo siglato in Comune a Sanremo, il segretario della CISLE di Imperia Savona, Claudio Bosio, ha puntato ancora una volta all'attenzione sulle infrastrutture. La coordinatrice territoriale Will Liguria e Milena Speranza ha chiesto invece maggiore attenzione per il territorio imperiese. Vediamo. Sicuramente ha bisogno di creare una nuova dimensione di vocazione turistica all'altezza dei tempi e sicuramente le infrastrutture che si pensano di realizzare insieme a quelle che andranno progettate e finanziate creeranno un completamento di un'offerta turistica che completa quello che c'è già oggi ma che è quello che manca. È una dimensione ormai del sistema turistico globale che vede maggior presenza in alcune fasce dell'anno ma con tempi di permanenza molto ridotti. Io ritengo che il tema della mobilità sia un tema fondamentale sia per quella che è la mobilità in arrivo e in partenza ma anche per quella che riguarda la mobilità sul territorio. La riduzione del raddoppio della ferrovia col mancato completamento della tratta di Andorra fa sì che comunque Sanremo come la provincia di Imperia sia stata penalizzata per il centramento delle stazioni. Quindi se noi concretamente vogliamo rilanciare questo territorio dobbiamo completare il tema della pista ciclabile che vede che saremo nella sua centralità e dall'altra parte il completamento, il proseguimento delle Aurelia Bis e realizzare sicuramente una diversa mobilità urbana con la realizzazione di parcheggi ritenendo che chi viene oggi qui abbia difficoltà sia nel muoversi sul territorio ossia con tempi di percorrenza sulla mobilità autostradale di tre ore andare e tre ore venire per raggiungere Milano-Torino quindi considerate degli eroi. Il sindacato nel contenuto della promessa si è posto un elemento di confronto per cercare di stimolare comunizzaremo l'amministrazione e tutte le amministrazioni affinché si possa generare un reale e concreto sviluppo futuro con la visione di progettazione non solo di conflitto ma di dialoghi e di confronto. La firma dopo due anni di lavoro Un lunghissimo lavoro, durato almeno due anni è un lavoro che comunque proietteremo ancora nel futuro non finisce assolutamente e comincia qui è un ruolo che il sindacato si è voluto assolutamente dare per uscire un attimino da quella logica che è un po' impensabile oggigiorno di un sindacato fermo soltanto nelle manifestazioni o in un ruolo molto rigido noi abbiamo voluto essere positivi abbiamo voluto coinvolgere questo territorio che era un territorio che stava dando segnali di molta sofferenza sia per quanto riguarda il mondo del lavoro sia per quanto riguarda assolutamente una parte sociale noi abbiamo tantissima gente che si rivolge agli enti locali per un sostegno sociale questo dà sicuramente il sensore del fatto che il territorio non ha sviluppo non ha sviluppo per quanto riguarda appunto la creazione di nuovi posti ma non ha sviluppo neanche nell'attenzione che si può avere oggi già avevamo anche le cooperative sociali che sicuramente assistono quella parte di persone non abbiamo neanche il sensore di quello che veramente può essere la crisi sociale che stiamo vivendo abbiamo voluto un po' risvegliare gli animi prima dicevo in una battuta che ci siamo lanciati anche per risvegliare un attimino la regione Liguria nel senso che ci va un pochino più di attenzione verso questo territorio che negli ultimi periodi è stato abbandonato a se stesso io ricordo sempre che lo stesso problema del ponte che c'è stato a Genova ci ha ulteriormente isolati rispetto a quello che già era il nostro isolamento prima della vicenda e noi abbiamo assolutamente bisogno che qualcuno guardi verso l'imperiese pensando alle grandi strutture ma pensando anche a strutture un pochino più piccole che però diano la possibilità di magari fare entrare a lavorare persone che oggi sono già sul territorio e usufruiscono di aiuti sociali perché credo che la dignità dell'uomo parta prioritariamente dal diritto ad avere un lavoro e dal diritto di comunque portare a casa magari un dignitoso stipendio e un pranzo per i propri figli Ed ora facciamo una piccolissima pausa fra poco Non si è chiuso nelle migliore dei modi il 2018 per il settore dell'artigianato Ligure secondo i dati di Infocamere e Movimprese le chiusure di aziende hanno infatti superato le nuove aperture i particolari in un servizio Si è chiuso nel migliore dei modi il 2018 dell'artigianato Ligure le perdite di imprese hanno superato le nuove aperture per un saldo finale negativo di 430 unità meno 1% su un totale di 43.402 microimprese Ligure lo dicono gli ultimi dati Infocamere e Movimprese in Italia la filiera artigiana si riduce dell'1,36% in totale sono poco più di 1.300.000 le microimprese attive pressoché invariato il settore dell'alloggio e ristorazione mentre a registrare un trend positivo sono principalmente i servizi in calo i due principali settori dell'attività artigiana manufattoriero e costruzioni dati alla mano è stato un anno amaro per l'artigianato Ligure che ha visto chiudere ben 3.000 imprese commenta Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria una perdita che solo parzialmente è stata compensata dalle nuove aperture ha sofferto molto il genovesato dove si registra il maggior numero di chiusure mentre qualche spiraglio di luce si apre a Imperia unico territorio a segnare una crescita complessiva trainata dal settore delle costruzioni ci auguriamo che questo possa rappresentare un piccolo segnale di ripartenza per tutta la filiera regionale continua Grasso quel che è certo è che le nostre micro imprese continuano ad avere bisogno di nuovi stimoli e sostegni meno burocrazia, semplificazione delle procedure incentivi agli investimenti riduzione delle tasse e agevolazioni per l'accesso al credito nuovo appuntamento con i laboratori culturali a Cervo venerdì al centro del laboratorio saranno le opere di scrittrici come ci hanno spiegato gli organizzatori Lina K. della Compagnia D'Usservo un nuovo appuntamento con la cultura perché Cervo in blu d'inchiostro ha tante novità una in particolare sono laboratori dedicati alla cultura sì, diciamo che questa rassegna ha già percorso un buon tratto di strada abbiamo già presentato quattro autori nelle rispettive città interessate dal progetto e nel frattempo si è inaugurato il primo laboratorio didattico proprio il 18 di gennaio curato dalla professoressa Emanuela Rotta Gentile del liceo Viesieu sul tema lettore consapevole e questo esperimento è stato appunto di grande successo perché si è avuta una affluenza di pubblico notevole la professoressa ha saputo magistralmente accompagnare i partecipanti nel mondo del racconto scegliendo brani di Hemingway e Fenoglio e facendo appunto capire le tecniche narrative e stilistiche degli scrittori che vanno appunto dalla scelta del ritmo, del racconto al mistero, al dialogo, al gesto e cosicché gli ascoltatori presenti erano appunto coinvolti in maniera magica quasi sentendo appunto le parole della professoressa Ecco allora chiediamo a Emanuela Rotta prossimo appuntamento venerdì primo febbraio alle 17 dove e che argomento sarà affrontato? Dunque sì, venerdì alle 17 sempre a Cervo nella sala consigliare del comune di Cervo la volta precedente abbiamo parlato di alcuni scrittori uomini questa volta sarà dedicato interamente alle donne a quattro straordinari iscrittrici che sono legate da un tema in comune e cioè si è deciso insomma di chiamarlo un'enigmatica normalità perché sono scrittrici lontane geograficamente una è la canadese Alice Marrow che ha vinto il premio Nobel nel 2014 poi abbiamo due scrittrici del sud degli Stati Uniti che sono state accomunate da questo ogni tanto cioè dal fatto che hanno parlato del sud degli Stati Uniti che sono Flannery O'Connor e Eudora Welty e una scrittrice argentina che è Silvina Ocampo scrittrici che normalmente insomma non rientrano nei percorsi di lettura un po' strane nel senso che appunto alcuni loro racconti parlano di un'apparente normalità quindi vite familiari apparentemente normale dietro le quali però si nascondono delle tragedie dei drammi e soprattutto dei conflitti la volta scorsa abbiamo parlato molto del conflitto vissuto dal personaggio insomma dei racconti veramente particolari e sorprendenti proseguono gli incontri dell'Aifo problemi di persone lontane ma che sono più vicine di quanto immaginiamo e noi soprattutto ce le sentiamo vicine al cuore stiamo celebrando dall'inizio di gennaio ma soprattutto nella domenica classica il 27 di gennaio la giornata mondiale dei malati di Lebra ma quest'anno l'Aifo ricorda loro ma ricorda tutte le vittime di quelle malattie tropicali che colpiscono più di un miliardo di persone perché hanno in comune tutte l'estrema povertà e quindi assolutamente una grande vergognosa ingiustizia ma per far conoscere sia queste problematiche ma anche che si possono risolvere se si lavora con rispetto e in modo serio quest'anno come testimone ogni anno portiamo un responsabile da uno dei nostri progetti quest'anno abbiamo Silvia Poggioli che è la nostra capo progetto quindi Aifo in Liberia un paese distrutto da anni di guerra civile dall'ebola da tanta povertà ma la gente è viva la gente vuole riprendere a vivere con il nostro progetto guidato da Silvia veramente noi speriamo di di costruire pian piano la giustizia e con la pace che speriamo ora sia duratura per restituire speranza ecco Silvia Poggioli che cosa vuol dire questo impegno in Liberia che cos'è questo progetto cosa fate in Liberia grazie mille questo progetto si chiama disabilità e start up quando la società civile diventa protagonista dello sviluppo inclusivo in Liberia che cosa intendiamo per start up intendiamo imprese di sviluppo inclusivo appunto quindi imprese che non hanno come obiettivo soltanto la crescita economica ma anche l'inclusione delle persone più vulnerabili della società e nel caso specifico di questo progetto sono le persone disabili le persone disabili con tutti i tipi di disabilità quindi non facciamo distinzione ma anzi vogliamo includere fortemente in questo progetto coloro che vengono definiti gli stigmatizzati degli stigmatizzati e quindi persone con malattie mentali per esempio e anche intellettuali questo progetto vuole creare imprese che siano sostenibili nel lungo periodo e che diano quindi un'autonomia economica alle persone con disabilità lavoriamo su tre contee del territorio liberiano per circa 2.000 persone 2.000 persone con disabilità e siamo agli inizi del progetto e quindi siamo ancora nella fase in cui stiamo raccogliendo le informazioni necessarie e stiamo raccogliendo le idee delle persone con le quali lavoriamo per creare appunto queste imprese di sviluppo inclusivo socio-economico parlavo appunto anche dell'inclusione di coloro che hanno malattie mentali è molto importante relazionarsi anche alla questione dei diritti umani quindi non soltanto la crescita economica ma anche la crescita individuale e della società per quanto riguarda la promozione dei diritti delle persone con disabilità la Liberia ha ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ma non c'è ancora molta implementazione di questa Convenzione e noi lavoriamo proprio su questo fronte anche insieme alle organizzazioni di persone con disabilità liberiane il tema di oggi della rubrica dell'angolo di Daniele e la corte affronta l'argomento la solitudine sentiamo è accertato che la solitudine è una brutta bestia porta spesso alla depressione e il fenomeno non colpisce soltanto gli anziani per gli appartenenti alla terza età o meglio alla quarta età viste le aspettative di vita di gran lunga migliori di qualche decennio fa ma per i più avanti con gli anni c'è sempre la badante una persona che può in mancanza di familiari a cudire chi è solo alleviandolo dalla monotonia se ancora autosufficiente o dalla pura solitudine se le forze lo regano ancora ma per i giovani e spesso la solitudine porta in tunnel difficili da superare e soltanto se sia una famiglia che può seguirli spostamenti e stati d'animi migliorano ma il mondo si evolve in molti settori compreso quello della solitudine e intendiamo un'evoluzione legale lasciando perdere escort ed affini oggi per chi si sente solo non ci sono più molti problemi basta aver voglia di collaborare anche per una vacanza si può affittare un finto fidanzato o fidanzata e quanto cade a Roma dove un'agenzia ha messo per quasi 600 euro a disposizione persone pronte a fingersi fidanzati scorazzando il turista o la turista per le vie della capitale con tanto di percorsi predefiniti niente di male nulla di scandaloso senza secondi fine un click una fotografia ed è fatta basta avere il portafogli pieno è tutto contratualizzato compreso appunto le foto negli angoli più suggestivi della città eterna con questo sistema si evita anche il rischio di litigare sulle scelte il finto fidanzato o fidanzata non battono ciglio eseguono gli ordini e basta ed ora le rubriche riviere 20 autostrada dei fiori e subito dopo il meteo un po' Grazie a tutti. 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 Mare in aumento fino a molto mosso a Ponente, fino ad agitato a Levante, in particolare sullo Spezzino. Segnalazione della protezione civile, piogge concumulate fino ad elevate deboli nevicate nell'interno del Ponente. Venti forti, disagio per freddo, mare localmente agitato a Levante. è proprio tutto per questa sera, grazie di essere stati con noi. Buona serata.